we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie can you hear that dream in the house we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone daie e ragazzi nuovo fortbyte il numero 7 disponibile da pochissimi minuti si trova all'interno di un ombrello e abbiamo già capito qual è utilizzando l'adesivo il pop up chiamatelo come diamine vi pare di tante coccole il fortbyte ragazzi è esattamente qua vediamo se riusciamo a trovare fatemi un attimo fare intanto lo screen vediamo se troviamo le mot tante coccole ragazzi che è quella con l'orsacchiotto rosa vedo che non c'è ancora nessuno eccola qua tante coccole si utilizza ragazzi il fortbyte diventa disponibile lo raccogliamo e anche per oggi è fatta io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 17 ciao 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 Grazie a tutti.